Sindaco, partiamo subito dalla sua proposta. Una proposta che lei ha lanciato a Davide Stival. In concreto di cosa si tratta? La proposta muove i passi dalla consapevolezza, dall'aver preso conoscenza che questo giovane padre, nel momento in cui è scomparso il figlio, era fuori per lavoro ed era fuori a migliaia di chilometri di distanza e col fatto che ci teniamo conto che il bambino su pesti, il fratellino di tre anni del piccolo Loris, resterà senza madre perché in questo momento rispetto in carcere e soprattutto da un padre che dovrebbe rischiare di perdere il posto di lavoro per poter stare accanto al proprio figlio o in alternativa non poter sbocrescere, ritrovarsi a vivere quell'incubo di stare a migliaia di chilometri di distanza dopo aver vissuto una tragedia così grande. Quindi diciamo che abbiamo pensato principalmente al bambino piccolo a cui dare la vicinanza di un padre, dare questa possibilità. Noi come sindaci non possiamo dare lavori a chiamata diretta, non abbiamo questa possibilità ovviamente per legge, la legge ci impone ovviamente regole come giusto che sia rigorosissime, soprattutto in materia di lavoro. Abbiamo solo la possibilità di chiamare al nostro fianco, nei nostri uffici di staff pochissime persone che sono dei collaboratori politici più stretti. Il lavoro è quindi quello, appunto, una mansione consona ai propri titoli di studio. Ovviamente il tipo di lavoro è vincolato al suo mandato? Sì, è ovvio che anche qui il sindaco non può attribuire incarichi a tempo indeterminato, ma limitati a proprio mandato. Quindi intanto garantiamo per il prossimo anno e mezzo tanto nella durata dei figli del mio mandato che questo genitore possa stare accanto a proprio piccolo nel momento più delicato della sua drammatica vicenda. Dopodiché, attenzione, io penso che se la cosa si concretizza, non penso che dopo di me ci sarà un sindaco così senza cuore da mettere sulla strada un padre di famiglia in queste condizioni. Quindi è molto probabile, insomma, che possano rinnovare anche questo incarico poi. Sono passate settimane dalla sua proposta. Che riscontro avuto da parte sia di Davide Stival che del suo avvocato? Si sono mossi? Vi siete sentiti? Avete raggiunto un seno accordo? Mi sono sentito col suo legale con cui appunto da qui insieme abbiamo pastorito questa possibilità. Dopo durante il funerale ci siamo intrattenuti del bambino e appunto mi ha espresso questa fortissima difficoltà di questo genitore che era intenzionato a licenziarsi e non sapeva come poi poter alimentare e sfamare la propria famiglia. Siamo rimasti appunto che intanto io predisponevo gli atti presupposti per poterlo fare. Nel mese di gennaio mi avrebbero fatto sapere se era una cosa che interessava e che appunto per mancanza di altre possibilità ho oppure meno. Mi hanno già subito esternato appunto il legale scrofa in esternato subito la contentezza e il senso di gratitudine appunto perché nell'immediato avere questo salvagente, questa possibilità è qualcosa che ha consentito insomma di rispondere un po' e di poter sperare. Ecco che nel caso in cui non si trova altro c'è comunque una possibilità per questa famiglia.